I giudici della Seconda Corte d'Assiste d'Appello di Roma hanno depositato le motivazioni della sentenza sulla morte di Marco Vanneni. Il 30 settembre l'intera famiglia Ciontoli è stata condannata, 14 anni ad Antonio per omicidio volontario con dolo eventuale, 9 anni e 4 mesi alla moglie Maria e figli Martina e Federico per concorso anomalo in omicidio volontario. Nelle 85 pagine del verdetto i giudici a più riprese parlano dell'impossibilità di ricostruire tutta la verità, di menzogne, depistaggi e crudeltà. La morte di Marco, si legge nel provvedimento, ha privato la famiglia Vannini e anche la giustizia di conoscere un'eventuale versione alternativa a quella fornita dai Ciontoli. Inoltre per la prima volta una sentenza ha stabilito la presenza di Martina sul luogo della tragedia al momento dello sparo. Era nel bagno ed ha assistito al colpo d'arma da fuoco esploso dal padre, spiegano i magistrati. Invece di intervenire per aiutare Marco, aiuta Antonio a depistare le indagini, contribuendo ad avvalorare la versione da lui fornita.